Se stai cercando il tuo primo appartamento da acquistare, la tua prima casa, oppure un appartamento da investimento che sia affitto a breve o a lungo termine o affitto turistico, in uno dei borghi più belli d'Italia con a vista il Monticino, la Rocca, la Torre dell'Orologio, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in Via Roma, nel cuore di Brisighella, e qui si trova questo appartamento in una palazzina di solo 4 unità. L'appartamento è al primo piano, ha l'ingresso sulla cucina, un salotto, una camera da letto, un bagno finestrato, un grandissimo terrazzo e un ripostiglio, ma si può tranquillamente trasformare in due camere da letto con soggiorno con angolo cottura. Certo, come appartamento ha bisogno di essere rivisto, sia come rifiniture che come impianti, ma ha moltissime potenzialità e poi ha un terrazzo che, beh, è impagabile per dimensioni e posizione. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!